Ahimè bentornato è iniziata la stagione ancora una volta per il secondo anno al mare come ti trovi bene bene penso che sia una bella iniziativa venire a un pre retiro al mare con i tifosi con le famiglie penso che ci farà molto bene la fantasia il talento sono nel tuo dna come quello di Antonio Cassano come ha preso la notizia del suo arrivo bene bene io ho giocato un anno con lui so la grande mano che ci può dare speriamo che lui sia molto molto motivato per fare bene con noi che noi le possiamo dare una mano anche a lui questa stagione per te personalmente che significato può e deve avere questa stagione molto importante per me devo riscatare un periodo che non ho stato molto bene l'anno scorso e mi sto preparando bene mentalmente fisicamente per cercare di ripagare quel periodo brutto che ho passato il campionato scorso io come tutta la squadra penso che quest'anno lo faremo molto bene ci ha regalato però anche dei gol molto belli ai miei l'appetito viene mangiando si dice sì ho avuto la fortuna di fare due gol bellissimi e spero che questo campionato si possa ripetere parecchie volte ancora come vorreste che fosse ricordato ai miei valdese nella storia centenaria del del parma un giocatore che ha dato sempre tutto con tutti i problemi e difficoltà che si possa avere una domenica all'altra ma io da quando sono arrivato a parma mi sono comportato sempre bene per un professionista credo che se mi ricordano così sono contento